THE BEST DUDIO CHANNEL YEEEY Buongiorno ragazzi Salamena Siamo qui con bella Ragazzi ma ci abbiamo trovato questo ragazzi è bellissimo ci sono i supporti del mazzo ingranaggiano adesso lo scopriamo insieme a voi vediamo cosa contiene innanzitutto per aprirlo devi avere più di 6 anni più di 6 anni devi avere per poterlo aprire allora cosa c'è dentro ci sono 38 carte comuni 2 carte ultra rare 2 carte super rare e mi hanno anche detto che ci sono la bellezza di 2 mostri XS quindi andiamo a scoprire questo amazing spaga tutto ma basta che ti ricordi anche se non lo mangi bastardo ok adesso è rotto mi dispiace allora siiii un playmat il playmat finalmente ne abbiamo uno per farci i video sii possiamo fare i video su un playmat vero finalmente che bella amici e qui abbiamo le carte no prima c'è questo ah il tappetino questa cosa per fare vedere come fanno i video finalmente ci insegnava come se gioca allo yugiro devi evocare l'oro puoi fare uno XS ecco allora cerchiamo i mostri bellissimi ci dovrebbe essere una striscetta tipo quella dei biscotti no è un pochino di trovezza come Yorlo Saiba eh ah è come lo FIFO più o meno come i pacchetti di tabacco mi so aprire io bene dai eh dai l'ho smentato le runcardi bellissime vi rendete conto ragazzi a parte gli scherzi adesso stiamo facendo un video per fare i mongoli idioti ma vi rendete conto che costa 15 euro sta roba c'è c'è gente che la compra comorco duro oggi c'era uno che giocava a Gehargia perché ha preso questi in 3x vi rendete conto anche se prendi questi in 3x poi giochi Gehargia allora cioè lui fortissimo tra rara una merda ragazzi atroce fortissimo ecco l'unica roba per cui ci siamo fatti dare il coso esatto perché oggi abbiamo fatto il tournament no? cioè io non l'ho fatto in realtà io sono andato lì mi sono inculato sto robo così monto il merda di Gehargia con queste robe qua così siete contenti menate il cazzo che volete Gehargia fa schifo sto robo vi rendete conto? cioè tiri sto robo cosa succede? add1 add1 poi non puoi fare special se non macchine non puoi attaccare cioè che cazzo è? urgo proprio schifo poi sto robo un cesso di merda ragazzi cioè fa schifo quando usi sto robo puoi solo fare l'oxid di livello 3 che è una merda si attiva solo in battle step l'effetto fa schifo al cazzo sto robo una merda non serve a un cazzo cioè con le treppole che ci sono adesso telecenano tutte a parte vanity l'unica cosa che spacca utile è vanity che non serve a un cazzo perché Gehargia non dà nessun fastidio che cazzo se ne frega di sto schifo? no granagigio 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 no Irene uno perdi questo no Irene urgo l'ingranagia armatura i congeni i congeni che girano benissimo con con questo mazzo si sa questo mazzo i congeni vanno molto d'accordo esatto questo ragazzi i mostri ingranagia antico Gaggitron perché funziona in questo mazzo che fai Gerge armor ti si paracula la Gerge armor perché ha 1.9 di difesa AD AD Arsenal Accelerator Accelerator speciale esatto e poi tributi tributi Gaggitron è il tuo mimico non ti può più fare la forza riflessa la Primace la Chimera la Gadger Gugbo Pippo è anche una card dropper carta utile un oliatore il Pippo un ratto gigante un filo nel naso ragazzi un altro ratto gigante le città degli ingranaggi per fare le fortissime combo Attivo città Mi ci faccio il tifone sopra Galgitron Fortissimo Esatto Rimozione di limite Così George Auger Diventa un mille D'attacco E bit diretto Poi Pippo Spaccatura Che in questo meta È fortissima Schiacciare Dopo che hanno Sto qua Dopo che hanno sbandito Rai Jeki Hanno assunto Un ruolo principale Perché sono Infinitamente superiore Rai Jeki È evidente Double summon Fortissima Perché in questo mazzo Ti ha di Accelerator Poi attivi E evochi normale Accelerator Con double summon Esatto Poi swapiti swap Terraformare Sto robo Che è Pippo Che non si gioca neanche più Perché i tre Non si giocano più Fanno schifo Però è bello Non lo metto in dubbio No Fa un culo Qua ci metti L'unica cosa che mi serve Di sto robo È il metal morpo Il Pippo Pappo La Pippa Pappo E il GGX Common Che mi si gelano le palle A vederlo Però è bello Quindi Quindi Basically ragazzi Basically Quello che mi serve È questo Via Basta Con questo si monta Il GG Nuovo Poi vi porto La decklist Tanto è uguale A quella di quello stronzo Che ha Che ha Toppato in quel merda Di ARG Perché è l'unico modo Di giocarlo Se vuoi evitare Di prenderlo nel culo Cioè con gli specchi In pregione ombra Se no perdi Poi becchi E lo Di Gerry Ti Di